Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti su Gioca con Mike Allora, giochiamo Five Nights at Freddy's 4 Iniziamo dai, iniziamo Inutile che aspettiamo ragazzi Non so se già conoscete questo gioco ragazzi, ho fatto già due video Devo provarci, devo provarci Allora ragazzi, molto facile, sono un bambino dentro una stanzetta e devo sopravvivere fino alle 6 di notte Fino alle 6 di notte Ci stanno mostriciattoli in giro, io posso correre dove ste porte Ecco qua Cazzo, non mi ricordo come si chiude, ok Ah, posso fare luce e chiudere la porta E correre di nuovo dietro, correre di nuovo dietro Ok, ok, ragazzi Oh, cazzo Chi era? Capito? Cosa intendo dire? Ok, oddio, oddio, chiudo la porta, chiudo la porta Ragazzi, corri dietro, corri dietro, corri dietro, corri dietro Ok, 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 no, non c'è niente Devo avere paura, ok Oh, oh, ok Ancora qua Chiudo la porta Aspettate, se resto così fino alle 6? No, 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 no Ragazzi, oh Oh, cazzo Quella tua sorella Ridete? State sfottendo? Vi faccio vedere io Allora ragazzi, riproviamo Ho il cuore che mi batte Ascoltate Allora, lampadina Non serve a niente Ok, chiudiamo la porta Ok, ok, ragazzi Voglio fare solo Molto Ho sentito dei passi Ragazzi, ho sentito dei Chiudo la porta Chiudo la Ti hai sentito qualcosa? No? Oh, cazzo Ma Ragazzi Ma devo Ok, calma Il sangue freddo Ragazzi Volevo farlo Qualche 10 minuti Sto video Ma io Ci provo un'altra volta Ci provo un'altra volta Non me ne frega Niente Quella Lo stavo dicendo Ragazzi Eh, eh Non sto giocando al buio Eh, se guardate intorno C'è luce C'è luce Perché io al buio Non ci voglio giocare A parte che i vicini Penseranno che Vengo ucciso O roba del genere Eh, cazzo Sento già passi Ok Oh, oh Oh, cazzo Oh, avete sentito i passi? Ragazzi Avete sentito i passi? Psss Ragazzi L'avete sentito? Non so che fare Ragazzi Ok 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 Non è successo niente Non è successo niente Se chiudo subito la porta Non succede Niente, no? Cavolo Un errore Ho schiacciato troppo volte shift Mica Mi ha fatto già cagare l'errore Di Windows Vado dietro Vado dietro Vado dietro Vado dietro Vado dietro Vado dietro Chiudo la porta Chiudi la porta Sentite sti passi Ragazzi Li sentite? Ok Adesso è arrivato qualcosa Ragazzi È arrivato qualcosa L'ho sentito Me la fate fare brutta Ragazzi Ok Che cos'era? È passato di là Ok 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 Ragazzi Sono le una Luna Mi devo girare? Mi devo No Non mi giro Ragazzi Che palle sto gioco Ragazzi Ok Ok Oddio Oddio L'avete visto? L'avete visto? Dai va dietro Va dietro Ok Ma la luce Si scarica la batteria Di sta lampadina Qua Non lo so Ragazzi Ma Sto Sto impazzendo Oh Cazzo Tua sorella Perché? Perché faccio la luce Ragazzi Perché faccio la lampadina? Ok Basta Basta Per oggi ho finito ragazzi Ci ho provato tre volte Io la notte due Non la sopravvivo Mai Non so perché Ci ho provato già una volta Con il mio amico Potete guardare il video Dovete scrollare un po' in giù Perché è un po' vecchio il video Però spero Vi sia piaciuto ugualmente Un po' di Momento Shocker Per voi Ragazzi Ce la farò Ce la farò Cerco di scaricare altri giochi Altri giochi Horror E vediamo di giocarli in futuro Ragazzi Vi saluto Iscrivetevi Mettete un bel like Ho una pagina Facebook Gioca con Mike Ho Twitter Potete anche cercarmi su Twitter Gioca con Mike Mi chiamo Gioca con Mike Dappertutto Perché Per giocare con Mike Si deve giocare con Mike Ciao a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti